È educato storicamente ad avere molto rispetto degli ospiti, per cui troverete sicuramente ospitalità, ma soprattutto troverete cortesia, e quella cortesia che caratterizza le terre del sud. Noi, come ben sapete, io voglio stemperare un po' quel tono, noi sportivamente, solo sportivamente ci siamo un po' contrapposti alla dominazione mongobagna, e abbiamo detto che siamo ben lieti di essere, di appartenere a Savoia, per il sud, ma questo solo sportivamente lo abbiamo fatto, ma bensì noi riteniamo che il compito di qualsiasi associazione, di qualsiasi istituzione è quello di unire gli intenti, unire le energie, unire le cose. Tutti quanti siamo, ci siamo spesso, troppo spesso.